non è il rischio a preoccuparmi ci fidiamo della via che ci vogliono indicare mi fido della loro saggezza è come se ascoltassimo direttamente la loro voce sicuro che i giganti non consiglino la guerra io li ho definiti saggi nella mia esperienza significa essere pacifici o fratellino visto te l'avevo detto atreus dove sei stato a fare pipì spero che siate affamati ho una fame vi siete riposati quanto me scendo subito giù questa è una salsiccia certo non lo vedi prima il cibo era più buono vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia accetto cosa a treus abbiamo la prossima mossa o allora dove andiamo ad alfaim la casa degli elfi alfaim tu odi alfaim perché trasferirci la trasferirci no andiamo a cercare informazioni l'altare di groa ragazzo tuo padre dice che l'hai trovato lì groa la custode del sapere o forse c'è un segreto che posso svelare già chi meglio dico lei che ha visto tutto non sapevo se tu no niente è fantastico alfaim ehi non scordatevi questa vi ci porterà sapete cosa costruirò un tavolo più grande ce n'è di più per me tir puoi davvero venire con noi si quando sei pronto anzi quando tuo padre è pronto se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi è il minimo che posso fare per sdebitarmi inoltre penso mi farà bene rivedere la luce di alfaim quella luce elfi che roba buona non 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 Grazie per la visione!